Qualcuno dice che il prossimo ottuno sarà un autunno caldo. Io dico che siamo abituati a questi calori, visto e considerato che l'autonomia non ha mai avuto periodi freddi. Abbiamo iniziato il nostro percorso d'autonomia con una bella impugnativa del governo di allora, di centro-sinistra, che ci portò avanti la Corte Costituzionale nel 2014 e per un anno abbiamo battagliato, alla fine noi abbiamo fatto il referendum perché la Corte Costituzionale ha dato a ragionare noi con la sentenza. Gli stessi che ci hanno portato davanti alla Corte per impugnarsi, impugnando la nostra legge del Veneto per fare il referendum, sono gli stessi che oggi propongono il referendum. Bene, prendiamo atto. Dobbiamo rispettare ovviamente gli istituti della democrazia, uno di questi è il referendum, cercheremo di capire se sarà il referendum e quindi la Corte Costituzionale l'autorizzerà oppure no, ma nonostante questo, come dico sempre io, male non fare, paura non avere. Si va avanti, la legge Calderoli è una bella legge, non toglie niente a nessuno, tantomeno lasciatemelo dire alle regioni a statuto speciale, alle province autonome, perché addirittura la legge prevede che una regione a statuto speciale, nella fattispecie Sardegna, potrebbe decidere di adottare la legge oppure no, a seconda della convenienza. Ma dire che questa legge porta via soldi a qualcuno, decisamente no. Ma è vero invece che sarà una grande occasione di un grande processo di decentramento amministrativo che ci permetterà a tutti i cittadini, permetterà a tutti noi cittadini di vivere meglio. Quindi noi sempre pancia a terra, andiamo avanti col progetto d'autonomia, perché alla fine dimostreremo che non è uno spacca Italia, che non è una scatola vuota, ma è veramente un cambio di paradigma in un paese che ha 3.000 miliardi di debito pubblico, che ha i cittadini che sono costretti di farsi le valigie per andare a curarsi fuori regione, che io trovo anche immorale che un bimbo quando nasce, Sardegna, che futuro avrà in base a dove nascerà. Ecco, l'Italia a due velocità non è figlia dell'autonomia, ma è figlia di un modello gestionale che ha fallito.